Sono un analista politico, ex diputato, secondo me anche, ex bianvoli del Consiglio Isolar. Di Parlamento. Di Parlamento, sì, a partire da un momento per il tempo. Nostro vanno a analizzare entero il desarrollo di una prima elezione che è arrivato alla formazione di un governo. Signor Stagli, un felicità. Felicità di Pabo, Radio Escuchas e Televidiente. Stagli, una prima pregunta. Con Pabo, su analizzista, promete che la elezione è arrivata a come nostra? Che va provare il nostro soggetto? Mi chiede che non è ancora provare, però a base di tutte le informazioni che si può accumulare, può essere venire in una conclusione. Se non so, mi ricorda un po, se non so, è tempo per me, con lezione. E' stato fatto a Robi Brùa. Nota, in un dado momento, due governi, due presidenti di Parlamento, a occupar Fuatam-Sedam. Abbiamo quasi popopisa, un conflitto civil. Ronde forte, arriva caia. Ci sono i metili. Ci sono stati, una verità, unapanica, per un grande segmento della comunità. E' stato molto molto, un electorato. E' stato fatto, ho avuto bene, che ho avuto qualcosa. che aveva più informazioni, che aveva una volta che sta passando, a un dato momento c'è due membri del Parlamento che dice la nostra maggioria e c'è una nuova che dice che dice il nostro potere, così è solo con questo. Abbiamo un'elezione. E dopo, dopo un anno, come la situazione sta senza bruciare, mi messo a decidire come partecipare e becci attivamente nella elezione. Nel primo momento mi messo a buscare natural un partito, un leader di un partito come poter identificare con lui. E questo è il risultato di parlare, il partito nazionale. Non c'è nulla di corruzione, non c'è altra cosa in Rondheim, è una persona, è una persona integrale, capacità e è stato un bom membro del Parlamento, è un pibe attivo, e ora è stato un ministro, e funziona bene. La mia esperanza è stata, nel tempo, è il mio primo, Cresce Peterson, a decidir tambi, a base di tutta situazione, come acaba di pinta un tiglio, per dentro di un politico, di tutta, e era subito numero tre cibilista. Cresce, tre, fare campagne. di tutta, e ora mi porto a barri, la mia esperanza è stata abertamente nella campagna, sostenendo la partita nazionale, sostenendo il mio primo. e la mia esperanza è stata abertura, perché mi ha deciso anche a un ruolo grande, è gratitud, come ho fatto con la famiglia di Peterson, come ho fatto con il mio padre, io mi ricorda di a me tassera, 6-9, con una birra membro del Parlamento, e non deputato, era un rato, quindi corrigei a favore. E poi ho pensato aiutami a me giochi mesi. Sobbi a podio, di fronte a prendere, robbi, di un tempo, con fronte a noi, ma con sette gente per subi lista. Non arrisca il lavoro, arrisca tutte altre cose, per aiutami, e io non acquitami, per aiutami, per aiutami, per aiutami. con una sinistra, e io non ci ho un certo nivel di gratitud. Ora, i risultati della elezione adrenta, il 29 di ottobre, in cui mi fai al punto numero 2, mi chavo pensi prima che mi fai al numero 2, durante la campagna, chanel, mi cominciaron a riparare certe cose, come mi pensi, hey, c'è un cose qui qui non ti coser, come non sta comprender, ma sono stati in 3 partiti che sta a gobernar, ma, MFK e Pobre Soberano. E a base di mia analizzazione, e ho più più gente nata nel mondo di me, ho concluo che non ha fatto un po' danno per il popolo, che ha risultato abbastanza positivo, e che può asfaltare il suo cammino, non, è venuto con il San Vino, non, non ha fatto un po' critica, non ha fatto un po' reddito. E se voi analizzate, MFK, un po' reddito, una relazione con la mafia italiana, con tutti cheeOOOOO ma stai lasciando tutto , ma hanno fatto un po' addeggio nel Pobre. per il tempo prima che fredeva, prima che vittor, che sei il Tabata, a fare la luce di te havi. Quindi, da me anni da ciò, il Pueblo Soberano, il Tabata, è il gruppo quasi maggiore del segmento. È il cuore che è infezionista. È una cosa male per un paese. Come si è il cuore che è infezionista? Alla cosa chiesce con, i bici non d'ai nazione, i bici non d'ai nenne, i bici non d'ai nenne. È un cuore che se lo so, è un versionista non... Io sono il vocabulario, è un vocabulario. E io solo perchè non, che non sia in cui, non riesce per il bici, che è maggiore che si è in un'occhiazza. La società è un'occhiazza, ma è il nostro volto, con i versioni stanno a stop di invertì. Mi chiede anche, ora è la prognostica, ah, è la independenza, non vogliono, ah, è la independenza, noi abbiamo il nostro proprio passaporto, ma stanno a fare con i versioni sti chiquito, e io dico solo, quando c'è un autonome, quando c'è un caso, quando c'è un caso, quando c'è un caso, e dice, è, è la independenza, che c'è un trazzo, ma sobra, historicamente, ora c'è un cambio constitucional, e c'è anche un atraso, e poi, quando c'è, quando c'è un problema, 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 durante il Regno di Compo da Cresstra, quando c'è un problema, il Publice me l Vul��요, e io sto a guardare un problema, in che c'è il problema, perchè, dopo il certo giorno, accadere con un problema, un problema, quindi, entrare con un ruendo armato, solo pazza con il Figlio di Contrario il flujo di segmento di turisti ulandesi, abatto il di 100%, ma se non sono più di 1.300 anni, meno, a BNI, cosa sono, a me non si chiede solamente di Wills, da c'è un altro motivo da me, la situazione economica con l'Europa, con lei, però, da un punto di vista, che e 3 partidos politici non. Adesso durante la governazione a pensare che è il più danno il popolo che il popolo sovrappone. La prima cosa ha messo il punto un'aclarazione di una parte di una parte pubblica del conflitto con i banci centrali con la destra e il conflitto che il conflitto che le creano con i riccolti con i bispo seco per quanto il conflitto che in grado e a largo in grado l'Italia ma da nino, per il pubblico come te pensi, come te presenti, con lo che manda e lo che ama a casa. Annalizalo. Ok. Ha risultato che il Partito Pueba Soberano sarebbe il partito più grande. Come ti chiede? Ok. Mi chiede... Buon... Nostra bene è il risultato dell'elezione. Si. Buon... Mi chiede... Mi chiede... Mi chiede... Un cosci... Pro me... Anto mi te bai... Noi... Per pregunta... Ma sobra... Mi te pole... Durante... E campanhe... No obstante... Mi analiz... Ma ripara... Que gran... Maioria... Di... E... Che... 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 Il mio nome è una campagna contro un solo persona, con scotter. Rupi sem a modo di gastare, per riparare la campagna contro un hombre che so. Non è inserita ricoste contro te, per te ancora non lo conoscerà. E' la stessa cosa che è stato visto a 10 novembre durante la campagna. A me ha analizzato, a me ha concluito che il proprio soberano è un piccolo. Tocca in campagna di par e campagna di Frente Obrero e campagna di VB6 e campagna di Frente Civil. Tutta contro scotter, non contro il proprio soberano. E se è già rispondevo e pregunte di come se volano essere subito. Passo una volta dove non è cammino per subito. Non è un critico, non è un critico, non è un critico. Non è critica MFK. Signor Scott e MFK. Ok. 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 con la maggiori della sin scuola, con la maggiori della nostra independenza finanziaria, e con la maggiori della tromba che non rereda, per il tempo di cativo, per il tempo di colonizzazione, con la maggiori della tromba che non funziona, e vota non può comprare, manipulare, e di brainwash. E l'agra di noi è una roba honesta con l'altro, noi abbiamo due gente, maggiore talentoso, con un capitale roba grande nella traccia, per così è cosa qui. Uno è il signor Will Smith, che può manipulare, e brainwash, maggiore, 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 mentre c'è un capitale roba grande, su traccia di capitalismo di casino, e l'altro è il signor Harris J, che può trasmettere il talento di manipulare, e brainwash, ha si promessa, ma gente non può notare scuola, gente non può traumatizzare, e gente non può notare un capitale indipendente finanziario. mi stai a la conoscenza e pergunto a di un gente, manera a bo, potremmo cumpra un ora, a qui non? Non troppo indipendente. no, a bo, stai a con carne, inmediata, per me regalare di 9 anni, 2 ore e mei, tu già sai, ma 2 radio, ma 2 televisioni, ma quanto è solo a costa? mi stai a conoscenza, ma chi è? mi stai a conoscenza, e per la città? hay un capitale, 4 ore e al 15 anni, 15 anni, per la città? e poi mi racconto con questa vista, sicuro per rendere con delle medie, con costoso il programma di Will Stavata, 9 anni, largo, e nella campagna, come già si sapeva, questa è una delle radios, televisioni, e poi mi racconto, mille e mille di florino, ma scutti di bandeira, ma scutti di pampletti, ma scutti di t-shirt. Ma scutti di capitanciare, e poi ci sono in manipulazione, questo è che non ci sono capitals da sua casa. Preciso, è visto, con la roba di capitale, ma scutti di iniziare in ricerca, abbiamo un riunione nel barrio, abbiamo un riunione, abbiamo una riunione, abbiamo un partito politico, ho scutti di 2 partiti politici della mia vita, ma scutti di quanto è un riunione nel barri di Costavo, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.